Musica Ciao Top Driver, benvenuto in un nuovo video trap Questo oggi è il momento di sbarcare a jet e scendere in pista nel solo circuito cittadino Iniziamo subito Prima variante in cui è fondamentale la velocità d'ingresso Per cui freno ai cento in linea retta, inserisci la vettura in terza, sfrutta la pista, scala una marcia Vai cucito per quanto possibile al cordone interno e allargati nel mentre moduli il gas e fai doppio short shift Ora altra sequenza di curve Dentro alla 4.50 scalando in quinta tenendo occhio al muro interno e un po' di sottosterzo in entrata In uscita non aggredire tutto il pedale, fallo solo all'altro cambio di direzione Poi qui, di nuovo sesta, fai lift and coast, ripeti anche qui la stessa cosa e telegrafa per uscire il meglio possibile da questo inferno Sfrutta il cordone esterno in uscita e occhio a non finire largo Hai visto quanto sia stato fondamentale in questo tratto impostare un'unica traiettoria di raccordo Per il T1 è tutto, ora concentra sul T2 a far bene questo curvone con banking Di 12 gradi, frena e 50, tutto entra in braking portando una miriade di velocità in ingresso Quarta con scalata modulare a centro curva, attimo di transizione e subito gas Fondamentale qui la velocità di percorrenza e di uscita Qui alla 14 mangia metri utili nell'uptime e prepara un'altra difficile sequenza di curve Dea un pelo di frena e 50, occhio che il cartello non è facilmente individuabile Quinta e aggancia il primo possibile la vettura con il gas, lato che segue la lunghissima zona di RS Qui il serpentone effettua sempre traiettoria e volte a perdere la meno velocità possibile E risparmiare metri importanti per il lap time Qui si chiude anche il T2, ma ora eccoci a curva 22-23 in cui frena e 50 Tra il braking e inserisci subito la vettura in quinta Dai gas presto e punta il cordolo interno al cambio di direzione per la seconda zona di RS di questo circuito Preparate adesso all'ultima staccata, intensa la 27 in cui è importantissima l'uscita Frena e 100 dentro e entra il braking in terza, evita come la peste il cordolo interno Short shift e aggancia la vettura con il gas per chiudere al meglio questo giro a Jedda Musica 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 Grazie a tutti.